Buongiorno cari amici furbi e cripto investitori e bentornati in un nuovo video ma soprattutto rieccoci qui nella summer season in cui il vostro Alessandro è sempre vestito uguale perché come già vi ho detto sto registrando tutto il giorno pur di tenermi tranquillo per un po' di tempo dove sono veramente incasinato familiarmente e non basta perderci in chiacchiere perché oggi grande giorno nuovo episodio della serie in cui reagisco ai miei vecchi investimenti quest'oggi tocca a un investimento nel settore del lusso più precisamente nell'orologio alcuni di voi che sono veterani del canale si ricorderanno la prima volta in cui vi portai il video dove parlavo del mio primo Rolex ed ultimo in questo caso attualmente già vi sto spoilerando un po' di dati e quindi andiamo a reagire e come faccio sempre questa serie capirò con voi se sono ancora d'accordo di quell'investimento di cosa ne penso se ad oggi lo rifarei e con uno sguardo effettivamente con 1 2 3 4 x anni in più di esperienza a breve vediamo anche a quanto risale quel video per il resto direi che ci siamo prima di iniziare vi ricordo che non sono un consulente finanziario e questo video in alcun modo non contiene consigli finanziari lo sto facendo soltanto a scopo di intrattenimento like mi piace che la stessa cosa commenta e iscrizione ora andiamoci a vedere questo video il video risale al 13 ottobre 2021 quindi quasi 3 anni fa se vogliamo abbondare 2 anni e mezzo fa dai andiamolo a vedere buongiorno signori buongiorno a tutti va bene non sono vestito proprio in maniera consona al momento quindi facciamo un attimo un cambio eccoci bella che effetto c'è qui naturalmente Rolex non è questo orologio non ve lo spoilerò subito ma tranquilli non è un clickbait anzi non aspettate vedete la postazione come era clean e adesso in che condizioni sono perché vi dico che sono incasinato in questo periodo fatevi qualche daytona qualche Rolex da 20 30 mila euro perché non è assolutamente questo il caso però finalmente dopo tempo e a breve ci arriveremo ho comprato il mio primo Rolex l'estate ero veramente felice e gasato di quel momento come mai più fino ad ora riconessi fino alla fine del video perché voglio assolutamente sapere il vostro parere su quella che è la mia visione su questo acquisto quindi mi raccomando prima però di parlarvi della cui però io ritengo che Rolex soprattutto a livello di marchio vuol dire tanto hanno creato sicuramente un impero ma ora ci fermiamo qualche istante perché è giunto il momento di presentarvi lo sponsor di questo video che è Bitpanda Bitpanda sta facendo in Italia una promozione incredibile che ti permette di ricevere fino a 50 euro di bonus benvenuto come è possibile ottenerlo semplicemente depositando un minimo di 100 euro e ad ogni 100 euro investiti ti regaleranno 10 euro fino al massimo di 50 quindi se depositiamo 500 euro ci daranno 50 euro di bonus un bonus veramente incredibile Bitpanda ormai è una piattaforma che conta milioni di utenti e soprattutto molto affidabile come possiamo vedere qua ha tutte le regolamentazioni del caso è sicura e protetta e affidabile e oltretutto ti dà la possibilità di comprare cripto azioni materie prime indici metalli e tanto altro e a breve inseriranno anche gli ordini limite mi raccomando ti ricordo del bonus troverai nel primo link in descrizione grazie mille Bitpanda per aver sponsorizzato questo video dietro questo secondo me quando qualcuno si appassiona a quella che è l'orologeria di lusso poi è chiaro che l'orologio che ho acquistato in questo video non è chissà che lusso vada a finire su Rolex perché per mancanza di esperienza ma soprattutto per liquidità a livello di mercato Rolex è imbattibile e mi affascina tantissimo quella che è proprio questa loro caratteristica questo video voglio trattare e poi chiaramente resta uno status symbol imbattibile anche la parte di investimenti che si possono effettuare su questi orologi anche se vi spoilerò non è assolutamente il mio caso o meglio è solamente una parte della motivazione del mio acquisto però guardatelo fino alla fine prima di commentare cose che sto già immaginando alcuni di voi possano scrivere guardate tutto il video perché non è comunque una parentesi che voglio fare adesso mi metto un pochino più di luce addosso è che il me di oggi in quel momento storico sul mio canale non avrebbe portato quel video perché avevo una community meno solida adesso che è un po' più piccola ma più solida ma soprattutto di pignoli e soprattutto di non voglio usare altri termini che è molto criticona che all'epoca è fatto soldi facendo questo cosa che tra l'altro non è vero e tutti questi commenti inutili che mi sarei volentieri molto risparmiato pur quel video non avendo chissà che commenti sotto però io conosco i miei polli è come pensate in questo momento nei primi istanti di video pur la mia passione per gli orologi fosse davvero molto forte non ho mai speso tanti soldi per acquistarne uno proprio perché forse la passione ancora più grande è quella della gestione patrimoniale degli investimenti eccetera quindi effettivamente li vedevo un pochino più come accessori per quanto comunque li rispetti tantissimo i segnatempo ed è quello che non mi ha mai portato a spendere tanti soldi anzi ad acquistare il miglior qualità prezzo probabilmente sulla fascia bassissima come ad esempio questo Orient semplicissimo adesso ve lo faccio vedere 100 euro eppure fa il dovere suo automatico abbiamo la data il giorno e direi che per quello che costa secondo me è davvero un ottimo acquisto poi concordo se ci sono esperti nei commenti mi farebbe piacere avere anche giustamente il vostro parere ora vado a prendervi l'acquisto che si trova all'interno di un porta orologi come dicevo non è che il Rolex l'ho preso così è da diverso tempo che mi stavo cervellando a trovare qualcosa con un prezzo non troppo elevato e che mi piacesse vado a prenderlo ed ecco che finalmente vi mostro il mio primo Rolex eccolo qui questo è un Rolex Air King precision che precision sta in realtà per la tipologia di calibro che monta devo dire che questo è uno dei Rolex più economici per chi si avvicina effettivamente al mondo Rolex ma devo dire che mi piace tantissimo è un 34 mm piacciono gli orologi piccoli infatti poi sono passato a un Cartier Santos che è addirittura forse più piccolo anche l'altro dovrebbe essere un 36 l'Orient e devo dirvi che è davvero in ottime condizioni questo qua risale all'incirca agli anni 70 e devo dirvi che mi piace tantissimo quanto l'ho pagato non ve lo dirò ma vi dico questa piccola cosa l'ho pagato a un prezzo inferiore di mercato l'ho acquistato da un rivenditore autorizzato con tutte le garanzie del caso vi metterò uno screen adesso del prezzo di mercato vi dico che sono stato abbastanza fortunato a pagarlo allora mai affidarsi a quello che è il prezzo di crono che tende a essere molto più alto di quello reale di mercato spoiler più che spoiler una cosa mai detta una come dire super segreto svelato a distanza di tre anni lo pagai 2600 euro dopo con circa mille e rotti euro in più permutandolo acquistai quello che è il Santos ma ne parleremo in un altro video andiamo a vedere il video un poco meno naturalmente non parliamo della metà perché è impossibile ma un bello sconto me lo sono fatto fare diciamo così anche perché ripeto non è un orologio raro non è un orologio di elevato lusso però volevo arrivare ad averne uno all'interno della mia collezione che non si può definire tale ma spero di iniziarla proprio un pochino con questo orologio e mi fa molto piacere averne acquistato uno a breve poi vi parlerò di quelle che sono le mie idee riguardo i Rolex riguardo un pochino il mondo dell'orologeria e in generale cosa ne farò cosa ne voglio fare di questo orologio comunque questa è la resa sul braccio devo dire che mi piace tantissimo bello bellissimo adesso ve lo faccio rivedere se ok così dovrebbe mettere a fuoco devo dire che mi piace tantissimo anche col quadrante che dovrebbe essere tipo bianco perla una roba del genere perché non vi sto mostrando la scatola purtroppo non c'era nell'acquisto però fortunatamente informandomi un pochino bene ad oggi non comprerei mai un orologio senza scatola garanzia dipende ma senza scatola originale eviterei è un problema assai grave per quanto riguarda le versioni così vecchie di Rolex anche addirittura se non sono accompagnati da una certificazione quella di casa madre perché alla fine essendo Rolex degli anni 70 non hanno bisogno di tutte queste cose e più che altro se poi si compra da un posto certificato che ti crea al momento quella che è la validazione del prodotto e che ti dice che effettivamente giustamente è autentico al 100% va molto più che bene ma ora veniamo al dunque perché ho acquistato questo Rolex la motivazione principale è un obiettivo che mi posi davvero diversi anni fa dove mi dicevo che appena avrei avuto la possibilità di acquistare un Rolex naturalmente ripeto questo è il base l'entry level se così voglian dire dei collezionisti anche se non è definibile tale e quindi appena avrei avuto questa possibilità l'avrei fatto allora i collezionisti sicuramente non comprano questo pezzo quindi non va considerato tale una soddisfazione personale non parliamo di importi di 20-30 mila euro naturalmente però per me è comunque una grossa soddisfazione l'altra motivazione a livello personale sicuramente è stata una soddisfazione l'inizio di quella che poi è stata la mia formazione da amatore nel mondo degli orologi che ancora ad oggi continua pur non dedicando gli grossi capitali anzi ormai acquisto veramente zero sostanzialmente è anche vero che in questa fase della mia vita sono un attimo occupato a spendere soldi su altro mi ha alla fine lasciato liberato la mente nel fare questo acquisto è che volevo un prodotto una cosa che negli anni comunque non perdesse in maniera totalitaria quella che è il suo valore perché altrimenti avrei comprato un oggetto fine a se stesso invece i rolex come anche altra tipologia di orologi come possono essere omega ma ce ne sono tanti altri riescono a mantenere sicuramente meglio il prezzo nel tempo e soprattutto nel mio caso non avendo una grossa esperienza andando ad acquistare un modello vintage mi permette di prenderlo soprattutto contrattando un po' il prezzo ad un prezzo scusate mi gioco i parole che rimarrà tale nel tempo o addirittura chissà magari per motivi fortunati salire anche ad oggi già vi posso dire che quei modelli lì sicuramente a parte casi veramente estremi rari per motivi pressoché di allineamento dei pianeti non salgono di prezzo ma è anche vero d'altro canto che non si abbassano più di tanto perché ormai quello il prezzo quello è ma ci tengo comunque a specificare che non tutti i rolex e non tutti gli orologi hanno delle crescite così importanti nel tempo anzi qualche anno dopo un anno e mezzo dopo ho avuto anche non dico un crollo il mondo rolex ma in generale quello degli orologi ma sicuramente una bella batostina per chi tra l'altro entrò più o meno nel momento in cui sono notato io l'air king è rimasto più o meno sempre lì come prezzo tempo non pensate che questo orologio che ho pagato avete visto più o meno il prezzo di mercato dall'oggi al domani o anche tra vent'anni possa valere 50.000 euro no ci sono dei modelli in particolare per certi eventi che prendono dei valori davvero enormi magari perché sono stati prodotti pochi ci sono tante a breve le mie considerazioni però comunque andando su genere di prezzo e un orologio del genere almeno ci portiamo a casa se lo teniamo in queste condizioni un oggetto un prodotto come potete chiamarlo che ci darà stabilità almeno nel tempo e manterrà il più possibile il valore se dovete comprare un orologio per riguadagnarci secondo me non è l'atteggiamento corretto perché non è così che si fa poi magari andiamo alle conclusioni allora prendiamo in considerazione in realtà l'obiettivo del video che era quello di condividere con voi una soddisfazione e quindi non di portarvi un'idea di investimento quindi ad oggi quello che posso dirvi è che come acquisto fatto sulla base di un piccolo sogno nel cassetto ancora lo approvo e tra l'altro poi è stato il ponte per come ho detto prima migliorare le mie conoscenze ammatoriali nel settore degli orologi e permettermi di fare un acquisto migliore dopo ovvero appunto il cartier santos che di cui tanto reagirò in un altro video quindi non mi soffermo su questo aspetto a livello di investimento posso dirvi che l'unico errore che ho fatto è stato quello di acquistarlo senza cattolane garanzie originali quindi senza il corredo originale cosa che è vero che negli orologi molto vecchi non è così fondamentale soprattutto negli orologi che costano poco però sempre meglio averlo un'altra cosa che sicuramente ad oggi avrei optato calcolando di prendere un orologio vintage e che non ha grosso potenziale di crescita nel mercato è di prenderlo con dei materiali preziosi come può essere magari qualche diamante basta che sia di serie e non inserito a posteriori e soprattutto magari dell'oro questi materiali permettono di ancora di più mantenere quello che il prezzo o di farlo lievitare piano 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 nel tempo proprio perché oltre al valore dell'orologio in sé per sé c'è anche il valore dei materiali preziosi per il resto non vedo nulla di sbagliato anche perché non è che abbia fatto dei prestiti delle cose strane per poterlo acquistare quindi a prova pieno soprattutto perché effettivamente ho spuntato nella checklist un'altra cosa che ad oggi in realtà sarò sincero non ho grosse robe da spuntare nella checklist anche perché sto cambiando di molto quelle che sono le mie prospettive i miei valori e le mie idee per il resto direi che non mi sento di commentare ulteriormente questo video semplicemente perché ripeto non ve l'ho portato come vero e proprio investimento sono ancora d'accordo che per diversificare ci sta acquistare un orologio ecco una roba che mi è venuta in mente adesso forse ad oggi non l'avrei acquistato per diversificare in quel momento perché in quel momento non avevo tanto su cui diversificare e soprattutto ero ad esempio all'epoca estremamente esposto alle cripto cosa che oggi invece praticamente no totalmente diverso molto molto pesante sul mercato tradizionale per il resto in realtà mi trovo in accordo sono curioso di sapere qual è la vostra opinione nei commenti noi ci vediamo a prossimo video in un prossimo video e grazie mille della visione